Sono Gianfranco Soriani, il direttore del Parco Interregionale del Sasso Simone Simoncello, un territorio tra due regioni, Marche ed Emilia-Romagna, e all'interno della subregione storica del Monte Feltro. Abbiamo partecipato al progetto Take is Law perché il parco si occupa di conservazione degli habitat. Conservare gli habitat in un territorio appenninico, montano, molto antropizzato, quindi dove la presenza dell'uomo è fondamentale ed ha anche plasmato il territorio e l'ambiente, non si poteva far a meno di partecipare a questo percorso in quanto si occupa di turismo sostenibile e prevedeva anche un percorso partecipato dove tutti gli attori del territorio che si occupano di turismo ma di economia in generale potessero portare le loro idee per formare un progetto condiviso. Sicuramente tutte le idee che sono scaturite in questi mesi di progettazione saranno utili per il territorio del parco e del Monte Feltro in generale, per la progettazione futura rispetto al turismo sostenibile che ormai è diventato fondamentale per il turismo generale e in Italia in particolare. Buongiorno, sono Lino Gobi, presidente del Parco Interregionale Sasso Simone Simoncello, siamo qui sul Monte Carpegna, un luogo magico perché ha una sua foresta di agrifoglie, è un luogo magico anche perché qui si sono consumati dei momenti sportivi del Giro d'Italia importanti, ma oggi troviamo questo territorio che si propone in una dimensione diversa. C'è stata tutta la parte storica, culturale, che anche città come Rimini hanno consolidato. Ecco, noi pensiamo che l'insieme di queste proposte possa essere un'opportunità anche per noi, perché se la gente lavora, trova opportunità a costruire progetti come Take It Slow, dove traguarda l'opportunità di rendere e di permeare il parco di turisti, di persone anche che vogliono vivere per dei periodi, che vogliono passare qui i momenti della loro vita, è un'opportunità che abbiamo pensato di cogliere e di interpretare. Cerchiamo di vedere se l'insieme di un territorio diventa un patrimonio più grande e può portare opportunità anche per la gente che ha scelto di vivere, i giovani, che ne abbiamo tanti che stanno scommettendo sulla presenza del nostro territorio. Una pagina nuova che speriamo ci consegni anche un progetto nuovo di vita, di presenza e anche di attività turistica interpretati in un modo compatibile con l'ambiente.